Nella splendida cornice del maestoso castello di Lombardia di Enna si è svolto venerdì 7 settembre il primo dei casting che si svolgeranno in tutta Italia in vista dell'edizione 2019 della Scala della Moda, il concorso di bellezza organizzato dall'Associazione Gente di Domani in programma nel prossimo mese di luglio. Macchina organizzativa guidata dal patron Giuseppe Pappalardo già al lavoro, infatti in vista della nuova edizione di uno dei concorsi di bellezza più apprezzati in Sicilia e nel sud Italia. Il casting di venerdì sera si è svolto nel piazzale E1 ed è stato organizzato dall'Associazione di quartiere Lombardì del presidente Edoardo Campione a presentare la serata il direttore artistico del concorso Giuseppe Pappalardo e la cantante ennese Maria Rita Campione. Questi i nomi dei giovani selezionati sia ragazze che ragazzi con le rispettive età e città di provenienza Roberta Manzo, 15 anni, di Caltanissetta, Vincenzo Terrazzino, 15 anni, di Caltanissetta, Dali Latona, 14 anni, di Mascaluccia, Nathalie Lorè, 15 anni, di Catania, Melania Patelmo, 20 anni, di Enna, Gaia Rigatuso, 16 anni, di Gangi e Agata Castoro, 17 anni, di Valguarnera. Roberta Manzo e Vincenzo Terrazzino sono stati i primi dell'edizione 2019 ad essere nominati dalla giuria rispettivamente Miss e Mister Moda Sicilia 2019. Vediamo le interviste. Abbiamo ben 12 ragazze, ma è soltanto un ragazzo perché per problemi vari gli altri ragazzi non sono poti venire. Sono 12 ragazze dalla provincia di Enna, Caltanissetta, Palermo e anche Catania. Ragazze validissime che si mettono in gioco, alcune sono reduci del vecchio concorso del 2010 di quest'anno, quindi hanno voluto riscriversi nuovamente e mettersi in gioco. Stasera daremo diverse fasce, tra cui la ragazza che prenderà più voti e il ragazzo che prenderà più voti, ovviamente l'unico ragazzo che abbiamo, prenderà una fascia con la scritta di Miss Moda Sicilia, prima Miss dell'anno 2019. Il concorso che finalmente è arrivato a livello nazionale, quest'anno, questa sera, il 7 settembre, inizia il primo casting del concorso in una scala di moda 2019. Abbiamo la novità quest'anno di avere la prima fascia dell'anno 2019, sia per il Miss e sia per la Mister. Praticamente noi pensiamo che questo concorso possa portare un po' di benessere alla città di Enna e avere pubblico da tutte le parti delle regioni italiane.